Siamo arrivati alla fine veramente frasi, chiamiamo i nostri artisti dai, Dino, Dino vieni con voi, Man, Renata, Renata, Renata e poi ancora i carboidrati, eccomi qua, Leonardo Capini, quando vi parlò di pensarci ca' infine è una persona Io voglio un applauso speciale per quelli che ci hanno fatto divertire lunedì sera Grazie. 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 Allora, vediamo un po', abbiamo un pianoforte? Casualmente. Casualmente c'è un pianoforte, qui c'è sempre. No, me la non credo. Non sa suonare lei? Non sa suonare? Sì, un po'. Allora, Betty! Abbiamo anche dei microfoni, casualmente. Eppure i microfoni? No, non è possibile, Betty. Anche i microfoni abbiamo. Ma loro si cantano davvero? Eh? Cos'è il microfoni? Sì, prova. 3, 4, 5. Troppi. Vai, vai, vai! Vai, Dani! Tanto da festa, si vanno tutti insieme, via! Casualmente. Un giorno crescerò. Un giorno crescerò, e nel cielo della vita volerò. quarter. Duco di fortuna? Tanto da tutor momento. Un cinque tonalire, è bicaria, di fronte del rosso tagliando il frattimento. track. 월ANT. Buon ? Klick! Ja, per appena unozzo legno morituda! Se il FloydAosio tagliare, di partita vol E,D, di partita volerò. sulla pelle sul mio corpo e il mio amore delle stelle chissà dove la casa mia prego il bambino che giocava in un cortileio pagavoto che sa io pagavoto che non sono arco soldi in tasca non ne ho ma nessuno mi è rimasto un idio si la strada è buona la strada è buona la strada è buona grazie 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 for the staff of the crew we really enjoy our holiday and so many thanks to everybody to sound and light technician on the backstage thank you very much grazie grazie molto buona casa alzare la tua musica Radio Birichina e Radio Valle Morella in collaborazione con Royal Caribbean vi hanno presentato Festival Show in Crociera Radio Birichina